Siamo arrivati a tre punti, comincia la registrazione, comuni Teolo, direzione Coli Udani, la registrazione, comuni Teolo, direzione, comuni Teolo, direzione, comuni, la registrazione, comuni Teolo, direzione, comuni Teolo, direzione, comuni, e adesso dopo, questo punto di cielo qua, tiriamo a destra, andiamo per un volo, sei chilometri, e adesso, andiamo, 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 andiamo. e Grazie a tutti. 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 Una bella salita questa. A parte la strada ruvida. E si va già meglio. Grazie a tutti. 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 Sono tante castagne per terra, e qui si sale. Sono le meraviglie di Colli Ugani, i suoi strapi, le sue pendenze. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info.it www.mesmerism.info.it Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info.it 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Buon siamo. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. una meraviglia. a tutti. 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 tutti. a 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 tutti. Carbonara Siamo Siamo Andiamo qui a casa vecchia Avete visto? Sono passati Isto è andato e iscacciatore Andiamo qui? 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 Andiamo qui?